72 casi denunciati per stalking, maltrattamenti in famiglia e violenze sessuali che hanno portato a 15 arresti e 34 denunce. Sono i dati relativi al 2016 registrati dai carabinieri del comando provinciale di Como che dall'inizio del 2017 sono intervenuti già in altri 20 casi arrestando 6 persone e denunciandone 9. Parlando di violenza sulle donne però c'è un altro dato che va considerato. Si tratta del sommerso, cioè di tutte quelle situazioni che ancora non sono state segnalate le autorità. Proprio con l'obiettivo di aiutare le fasce più deboli il Soroptimist International Club di Servizio al Femminile che punta a migliorare la condizione delle donne ha dato il via ad un progetto nazionale in accordo con il comando generale dell'arma dei carabinieri che prevede la realizzazione di un'aula protetta per ascoltare le donne che denunciano violenze e abusi. Un ambiente funzionale confortevole in cui le vittime possano sentirsi protette. Questa mattina è stata inaugurata il comando provinciale di Como l'81esima stanza tutta per sé. In Italia soltanto il 10% delle vittime di violenza sporge denuncia. Purtroppo è ancora basso. Vediamo e crediamo che questa iniziativa possa dare un aiuto in questo senso. Il silenzio è preoccupante, può dare dei risultati sconvolgenti quindi invitiamo le donne a venire a denunciare. Un approccio multidisciplinare che viene garantito alle persone che vogliano denunciare questo tipo di maltrattamenti ricevuti. Un approccio multidisciplinare che vuol dire che alla persona viene garantita oltre a un ambiente confortevole dove sporgere denuncia anche tutta una serie di riguardi e protezioni poi nelle fasi successive. Questa iniziativa ne segue altre già portate avanti in passato a Como. Il club si è prestato ad allestire un'aula di audizioni per i minori presso il Tribunale di Como che è già attiva da circa 4 anni e anche a fare dei progetti di prevenzione per evitare appunto che si arrivi a questo punto della violenza e quindi educazione come mi aspetto rispetto nei confronti dei giovani.